ehi ti abbiamo cercato dappertutto davvero perché mai abbassa la voce non vogliamo che la regina ci senta è un segreto sai sulla sua festa a sorpresa oggi è il compleanno della regina è il suo compleanno l'avevi dimenticato com'è possibile ma io ero sicuro che il suo compleanno allora sbagliavi e oggi vogliamo che tu la tenga lontana dal castello mentre noi prepariamo la festa a sorpresa e tu faccia in modo che lei resti altrove fino al tramonto al tramonto come faccio a tenerla fuori per tutta la giornata sarà meglio che trovi il sistema o finirai per guastarle del tutto la festa o caspita io non voglio che succeda allora va e porta la via dal castello che aspetti avanti su allora la regina avrà la sua festa a sorpresa bene bene tu sai cosa vuol dire vero gramo che finalmente possiamo andare in miniera a rubare tante pietre preziosi no vuol dire che preparerai una festa sorpresa per me festa sorpresa per me festa sorpresa per me avevo sempre desiderato una festa sorpresa per me sarà super divertente al tramonto io entrerò dalla porta tutti salteranno in piedi e grideranno sorpresa e io sarò così sorpresa non ho mai organizzato una festa sorpresa in effetti non so affatto come si fa va a spiare i sette nani e scopri come stanno organizzando la festa ho capito assicurati che vengano tutti i miei amici quali amici cosa ma tu non hai degli amici purtroppo andrò a cercarmeli e fa che la festa sia bella o a questa idina carina cucciolina piccina le si spezzerà il cuore per il resto della sua vita non deludermi saluti e baci prego maestà ma lord borberoso dove stiamo andando non riesco a capire oh già ero davvero sotto pressione come una pentola a pressione quindi ho escogitato un sistema per tenere occupata la regina incantevole tutta la giornata il giorno dell'espezione delle scarpe oggi è il giorno annuale in cui dovete espezionare le calzature dei subiti è una cosa davvero importante iniziamo immediatamente cucciolo 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 stiamo andando via dal castellore adesso subito e ora scopriamo come si organizza una festa sorpresa molto bene amici infila cucciolo prepara le decorazioni eolo palloncini cagnolino non so io come gonfiarli mammolo trova dove nascondere gli invitati è la mia specialità gongolo provvedi alla musica isolo terrai d'occhio i nostri ospiti e io farò la torta ehi io niente tu hai il compito più importante chiaramente sarai il clown della festa clown della festa dove si è mai visto un clown di nome brontolo per questo la cosa è comica è comica sì